ho fatto 64 mila obbite perché a me mi si è fermato poi volontariamente ho fermato il Garmin a Ciao 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 Uuuuh Uuuuh Oih 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso, adesso. Vai, vai. Ma c'è una cosa e sale? Sì, muovo. No, sale. No, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta. Vado. Ma fa parte del gioco, eh? Riuscivo adesso, eh? Non troppo gonfio. No, aspetta. No, aspetta. Placematica. ma io vado tranquillo che cazzo c'è? è proprio la piazza cazzo 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 che cazzo cazzo che fai cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti.